Mi chiedono, ma perché se così tante persone ci sono su Facebook, tu a livello commerciale non vuoi stare su Facebook? E mi viene in mente Schopenhauer. Schopenhauer chiesero un giorno, ma senti un po', Scho, Arturo, perché le aule di Hegel sono piene e nelle tue ci sono quattro gatti? E Schopenhauer rispose, non parlo agli imbecilli, per questo il mio pubblico è ristretto.